Ciao! In un video precedente mi sono messo a disposizione per rispondere alle vostre domande sulle pompe di calore magari per quelli che non hanno visto tutti i video o per coloro che hanno alcune curiosità specifiche per il loro caso e ne ho ricevute veramente una montagna, allora oggi inizierò a rispondere alle vostre domande intanto se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale youtube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video Bene, allora oggi inizierò a rispondere alla montagna di domande che mi avete inviato sulle pompe di calore faccio prima una premessa però, io non ho la verità assoluta, riporto la mia esperienza degli ultimi otto anni dove mi sono specializzato nel mondo delle pompe di calore quindi cosa facciamo? Seguiamo le famiglie dalla preanalisi di fattibilità quindi per capire se c'è la convenienza economica e la fattibilità tecnica per installare una pompa di calore e seguiamo le famiglie in un processo poi di educazione fino alla progettazione, installazione, monitoraggio, collaudo e quant'altro tutto questo attraverso una rete di installatori partner presenti in diverse regioni d'Italia che possono dare supporto alle famiglie Comunque vando alle ciance iniziamo subito con le domande non sono in ordine di importanza, sono in ordine di arrivo a seconda di quando me l'avete fatta Partiamo con la prima Futura installazione Siamo un nucleo familiare di due persone con la voglia anche di aumentare questo nucleo familiare come posso convincermi? a vivere senza gas, sulla base di calcoli teorici e non su consumi senza negli anni avere sempre dubbi sull'aver fatto la scelta giusta speso troppo sulla pompa di calore e averla dimensionata male e consumare un sacco di energia, grazie Ecco, è una delle domande sicuramente più gettonate non puoi assolutamente pensare di investire dei soldi al buio, assolutamente no solo un pazzo ti consiglierebbe di investire senza sapere dove e cosa andrà incontro quindi non puoi basarti solo sui calcoli teorici quindi non puoi basarti solo sulle dispersioni della tua casa ma i consigli che posso darti sono due la prima è di farti fare delle simulazioni su quelle che possono essere i consumi della pompa di calore a casa tua nel tuo specifico caso e nella tua specifica località quindi non basati su etichette energetiche o cose del genere ma fatti fare una simulazione specifica del tuo caso tanto oramai ci sono software di simulazione che ti permettono di calcolare mese per mese quanto consumerà la pompa di calore e da lì capisci anche se la pompa di calore è correttamente dimensionata oppure troppo piccola oppure troppo grande e questo è l'aspetto tecnico e di calcolo per quanto riguarda il progetto in pompa di calore invece per quanto riguarda come convincerti non sono sicuramente io a doverti convincere ma sono le migliaia di famiglie che già vivono senza grasse in Italia ecco quindi il consiglio che posso darti è di leggere assolutamente le recensioni di chi ti sta proponendo una soluzione in pompa di calore e farti portare anche da famiglie che hanno abitazioni simili alla tua abitazioni con dimensioni e impianti simili alla tua fatti raccontare da loro come si stanno trovando senza utilizzare gas e saranno loro a convincerti che vivere senza gas è possibile ed è anche molto conveniente ovviamente tutto deve essere basato su una preanalisi e non lasciare il caso e non basarti assolutamente solo su una scheda tecnica sarebbe un gioco d'azzardo e come ben sappiamo i giochi d'azzardo possono andare bene ma possono andare anche molto molto male buongiorno ho una caldaia di 20 anni e vorrei valutare il passaggio ad una pompa di calore ho una casa tradizionale con radiatori? quali sono le cose da valutare per capire se conviene oppure è meglio solo cambiare la caldaia e se sia possibile fare un cambio graduale magari mantenendo il condizionamento così e integrarlo successivamente allora, caro Alessandro è una domanda assolutamente lecita e molto importante col mio gruppo di lavoro esceviamo soprattutto casi come la tua quindi un'abitazione, un edificio che non è nuovo ma magari ha 10, 20, 30 anni e viene riscaldato con un impianto a radiatori qualcosa che sembra strano ma in realtà con la pompa di calore è assolutamente fattibile se fai le cose fatte bene e ci metti un po' di progettazione prima per valutarne la convenienza quindi quale sono le cose da valutare? allora intanto sicuramente se ci sono i requisiti tecnici per fare questa trasformazione elettrica quindi per trasformare la tua casa in 100% elettrica come requisito tecnico intendo se c'è lo spazio all'esterno per installare una pompa di calore perché la pompa di calore ha bisogno di un'unità esterna piuttosto incomprante se devi riscaldare casa con i radiatori e poi se hai anche un locale tecnico quindi spazio all'interno dell'abitazione per mettere degli accumuli come ben sai nessuna pompa di calore produce acqua calda sanitaria istantanea quindi ha bisogno di un accumulo, un volume, un bollitore, un barilotto chiamalo come vuoi per poter accumulare l'acqua calda sanitaria e tendenzialmente c'è bisogno anche di un accumulo tecnico, un buffer per accumulare anche acqua dell'impianto di riscaldamento questo ti permette di fare sbrinamenti molto veloci d'inverno e di evitare grossi problemi ci sono alcuni impianti in funzione che non hanno buffer tecnico quindi non hanno accumulo di acqua tecnica e le famiglie si lamentano per gli elevati consumi o perché la macchina passa troppo tempo a fare sbrinamenti quindi primo sicuramente requisito tecnico secondo è la convenienza economica perché se consumi 600 euro all'anno di metano per riscaldare casa sono io il primo a dirti che probabilmente non ti conviene spendere diverse migliaia di euro per trasformare la tua abitazione in 100% elettrica perché? perché i tempi che ci vorranno, cioè gli anni che ci vorranno per rientrare nell'investimento sono troppo lunghi rientrerai nell'investimento dopo 10, 12, 15 anni quindi assolutamente qualcosa di non conveniente allora il dato fondamentale è capire quanto consumi ad oggi con il metano, con il gasolio, con il GPL e così fare un piano di ammortamento e capire a quanti anni rientrerai nell'investimento attenzione però perché quando andiamo a valutare i consumi attuali di metano, gasolio, GPL e dobbiamo capire se stai riscaldando tutta la casa se stai mantenendo alcune stanze a 17, 18 gradi e altre a 20, 21 insomma ci sono delle accortezze da verificare perché alcuni casi cosa succede? il cliente magari consuma troppo con il metano e quindi lo tiene spento o lo fa lavorare poche ore al giorno e nel momento in cui installa una pompa di calore invece va a riscaldare tutta la casa ecco che magari i consumi successivi con la pompa di calore non erano quelli aspettati dal cliente ma perché? perché andiamo a riscaldare molte più stanze rispetto a prima quindi attenzione quando si fa una preanalisi di fattibilità condividi con il tecnico che ti sta seguendo in questo progetto tutto quello che è anche il tuo uso dell'abitazione quindi come usi la casa, quanto la riscaldi, quando la riscaldi che stanze utilizzi e mantieni a una temperatura di 20 gradi anche di inverno ad esempio quindi ricapitolando alcuni requisiti tecnici della fattibilità dell'installazione alcuni requisiti economici quindi la convenienza nel trasformare la tua casa in 100% elettrica e anche alcuni requisiti di budget, di spesa perché ovviamente un impianto in pompa di calore non costa come un impianto con la caldaia e quindi capire se l'investimento rientra anche nel tuo progetto per la tua casa se intendi investire nella tua abitazione abbiamo visto, siamo ancora in piena emergenza coronavirus anche se qualcosa oramai è già ripartito che investire nella propria abitazione è fondamentale per bloccare i costi fissi cioè adesso che abbiamo passato molto più tempo a casa ci siamo resi conto anche di quanto costa la casa e di quanto è importante vivere bene nella propria casa e quindi se sto a casa e ho dei costi fissi molto alti perché ho la bolletta del gas che mi arriva continuamente con dei costi fissi alti ecco che eliminare una bolletta del gas per portare tutto in elettrico e quindi avere solo un costo fisso è una cosa molto conveniente che piuttosto di investire magari in borsa dove non sono assolutamente certo del rientro economico dell'investimento che farò investire sul tuo edificio, sulla tua casa per bloccare i costi di riscaldamento è qualcosa che ti dà molta più garanzia oltre che ad aumentare il valore della tua casa e per quanto riguarda la tua domanda su è possibile fare un cambio graduale? assolutamente sì, è possibile farlo quello che ti consiglio se non sei convinto di investire totalmente sulla trasformazione della tua casa in 100% elettrica fai il tuo primo passo per vivere senza gas con una pompa di calore per acqua calda sanitaria quindi ti rendi autonomo 365 giorni all'anno dalla caldaia per produrre l'acqua calda sanitaria è un investimento molto più ridotto inizi a prendere domestichezza della pompa di calore e in un successivo momento quando vorrai affrontare anche il tema del riscaldamento sarai già pronto le due cose assolutamente non vanno in contrasto anche se non ti nascondo ad oggi siamo maggio 2020 stanno arrivando una serie di incentivi molto 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 interessanti che ti permetteranno di fare quasi gratuitamente un impianto in pompa di calore anche per riscaldamento dico quasi gratuitamente di questo però non ne parlo in questo video ne parlerò nei successivi bene allora procediamo con un'altra domanda è possibile usare uno scaldabagno in pompa di calore per scaldare i radiatori in alluminio? assolutamente no ecco mi vengono i brividi quando ricevo domande di questo tipo perché so per certo che ci sono dei venditori che vanno in giro dalle famiglie a raccontare che una pompa di calore per acqua calda sanitaria quindi una pompa di calore che eroga 1,8 kilowatt facciamo conto tondo 2 kilowatt termici può essere utilizzata anche per scaldare qualche radiatore assolutamente no quelle macchine sono date, progettate, costruite, realizzate per fare solo acqua calda sanitaria ciao 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 ciao